È il momento di scegliere tra due idee precise. La nostra è un'idea chiara. Vogliamo un paese libero con un governo libero. Una comunità partecipe, libera di creare e di decidere. Vogliamo allevare il talento, premiare il merito e rispondere ai bisogni. Ho in mente un'amministrazione comunale attenta, preparata, trasparente. Pergine ha talenti e possibilità che attendono solo di essere valorizzate. A voi chiedo solo il coraggio di scegliere. Dai pergine, si volta pagina.